Il 13 dicembre 1998 i cittadini di Cavallino Treporti si sono espressi positivamente tramite referendum in merito alla decisione di dividersi dal comune di Venezia diventando un comune autonomo e non più un quartiere della città lagunare. A 20 anni di distanza dall'ottenimento dello status di comune l'amministrazione ha festeggiato con una cerimonia di conferimento di benemerenze, encomie e cittadinanze onorarie a cittadini meritevoli e poi con un convegno mirato a conoscere il percorso intrapreso 20 anni fa per ottenere l'autonomia e presentare le prospettive di crescita. Allora è stato un percorso assolutamente difficile per arrivarci e poi un comune da costituire è stata un'impresa da parte dei vari sindaci davvero impegnativa però credo che ci siano state tante opportunità e l'autonomia le ha date. L'obiettivo è molto importante per il futuro creare una identità culturale forte, fare le opere pubbliche che mancano, cercare di creare occasioni di lavoro per i nostri giovani, il turismo a servizio di tutte le situazioni economiche, cercare di creare una comunità coesa, lo sviluppo sostenibile, tante cose da fare, tanto lavoro ma in rete faremo tutto. L'autonomia per quanto riguarda l'amministrazione pubblica è la possibilità di poter costruire il proprio futuro, di poter costruire la propria identità e di poter quindi costruirsi come Cavallino Treporti, consapevoli e responsabili del ruolo che si ha. Dottor Gasparina, è stato un bene per il territorio di Cavallino Treporti passare all'autonomia? Assolutamente sì, ma lo ha dimostrato la rappresentazione di dati, 20 anni di un'attività ha potuto maturare e valorizzare una vocazione territoriale che ha prodotto dal punto di vista della dimensione economica, demografica e anche di prospettiva strategica un valore aggiunto per questo territorio. Tra i punti toccati anche il contenzioso che è ancora in corso con Venezia, com'è la situazione a questo punto? Allora abbiamo promosso la causa civile dopo tante cause amministrative che non avevano dato i grossi frutti, adesso stiamo perseguendo questa strada che per il momento intanto il giudice ha ritenuto quella corretta, adesso stiamo cercando di capire la quantificazione, abbiamo quindi, siamo in attesa di una risposta da parte del giudice, abbiamo delle memorie da presentare, quindi noi stiamo andando avanti perché vogliamo vedere riconosciuto quello che ci spetta da Venezia.